in questo numero l'ex direttore generale soddisfatto per i cinque anni alla guida dell'umberto primo studenti salvano professore universitario colpito da malattia rara e ancora boom di studenti italiani a tirana per medicina e odontoiatria 3000 domande banco farmaceutico medicinali troppo cari per un italiano su due nel 2016 oltre 5500 falsi infermieri la professione sanitaria più alto tasso di abusivi e per concludere le news scelte per voi dalla redazione il direttore generale uscente del policlinico umberto primo di roma domenico alessio traccia il bilancio dei suoi cinque anni alla guida dell'ospedale capitolino prima di lasciare l'incarico al commissario joseph polimeni designato dalla regione lazio come suo successore abbiamo affrontato immediatamente tre problematiche la questione delle politiche del personale abbiamo affrontato l'altra questione altrettanto importante che era la problematica delle gare d'appalto e dei contratti e poi la questione del poliglinico il problema delle ristrutturazioni nel poliglinico considerate le gravi carenze sia strutturali che impiantistiche di questo grande complesso beh e possiamo dire che con grande soddisfazione che non abbiamo risolto tutto però abbiamo tracciato un'autostrada cioè chi verrà dopo di me troverà tutto diciamo così una situazione molto agevolata e dopo il quinquennio dedicato al poliglinico sul suo futuro alessio precisa io rimango a disposizione dell'istituzione regionale cioè della regione lazio io sono un dirigente d'azienda industriale io non vengo dalla struttura complessa non sono non siamo così un burocrate io sono un manager e come tale i manager proprio per loro natura non riescono a stare più di un certo numero di anni presso la stessa struttura il periodo più lungo è stato quello del poliglinico perché perché qui io ho accettato una sfida importante l'ho accettata e l'ho portata a conclusione quindi penso che posso ritenermi soddisfatto nella consapevolezza di aver fatto fino in fondo il mio dovere rischiava di morire a causa di una rara malattia che necessitava come terapia salvavita di trasfusione di sangue ma a salvarlo è stata la generosità dei suoi studenti il protagonista di questa storia agliato fine giuseppe marino professore universitario e scienziato di fama mondiale docente di analisi matematica all'unical marino ora sta meglio e ha voluto scrivere una lettera per ringraziare tutti i suoi studenti che si sono spesi in una vera e propria gara di solidarietà io prima avevo sempre la vostra spiritualità nel mio cuore nella mia mente scrive il professore mentre ora ho anche un poco del vostro sangue ma non di uno studente o due di decine e decine è una sensazione nuova che ancora non capisco pienamente spero di avere abbastanza futuro da comprenderla bene spendo due parole per raccontarvi di questa malattia per mettervi in guardia è una malattia rara del sangue chiamata porpora trombocitopenica o sindrome di moscovitz scrive ancora il docente un qualcosa che somiglia a una proteina non ho capito bene che si chiama adam ts 13 gioca un ruolo fondamentale nel buon funzionamento delle piastrine nel sangue quando non funziona succedono i guai le piastrine invece di circolare nel sangue intervenire in caso di bisogno si aggregano tutte insieme ad una parte i globuli rossi nella loro corsa nel sangue le urtano e si rompono nella lettera marino racconta ai suoi studenti i sintomi all'esordio della malattia ma anche la capacità dei medici di prendersi cura del paziente e arrivare alla diagnosi comunque vadano le cose scrive il professore abbiamo dato tutti assieme testimonianza che vivere un momento così bello di aggregazione fra studenti e docenti è stata una cosa di uno splendore e di un piacere immenso vi ringrazio tutti e vi voglio bene e per questo non vi regalo gli esami ma mi sforzo di insegnarvi a meritarli cresce l'interesse degli aspiranti medici e dentisti italiani per atenei stranieri che offrono maggiori chance di iscrizione rispetto allo stretto imbuto del numero chiuso italiano nella capitale dell'albania all'università cattolica nostra signora del buon consiglio di tirana che tiene i suoi corsi in italiano sono arrivate circa 3.000 manifestazioni di interesse 1.500 per medicina e 1.400 per odontoiatria per la quota riservata ai cittadini dell'unione europea molte più dello scorso anno spiega il preside della facoltà di medicina giovanni arcudi specificando che si tratta solo di domande informali non tutti si iscriveranno ai test d'ingresso cui negli anni scorsi hanno partecipato in genere dai 600 agli 800 candidati l'università di tirana appena pubblicato il bando per il test d'ingresso riservato ai cittadini dell'unione europea che si terrà a fine settembre non possiamo sapere quanti saranno gli iscritti quest'anno in genere sono quasi tutti italiani spiega il preside i posti messi a disposizione per gli aspiranti medici sono 50 e 30 quelli per i futuri dentisti ma ci sono possibilità di aumentare il numero aggiunge arcudi che tiene a sottolineare come l'università di tirana abbia lo stesso numero chiuso europeo un italiano su due nel 2016 ha rinunciato ad acquistare farmaci per ragioni economiche a rilevarlo è l'osservatorio donazione farmaci di banco farmaceutico gli effetti della crisi sottolinea sergio daniotti presidente della fondazione banco farmaceutico onlus persistono e si stanno estendendo a porzioni sempre più ampie di popolazione di fronte a tale situazione siamo tutti chiamati a dare risposte noi facendo al meglio il nostro lavoro la politica individuando azioni e misure efficaci volte a facilitare le donazioni impedire lo spreco e soprattutto valorizzare quei soggetti appartenenti al mondo del terzo settore che quotidianamente lavorano per sostenere gli indigenti il governo aggiunge davide faraone sottosegretario alla salute è impegnato a emanare i decreti attuativi della legge anti sprechi nel più breve tempo possibile e in coerenza con il senso della legge stessa siamo contestualmente convinti che il compito della politica sia quello di valorizzare chi già si occupa quotidianamente di sostenere più deboli aiutando cioè il terzo settore a svolgere il proprio ruolo al meglio dandogli tutti gli strumenti per essere il più incisivo possibile e la 166 2016 va proprio in questa direzione sono gli infermieri i professionisti della sanità più imitati sarebbero infatti 5500 gli abusivi secondo le stime dell'ipasvi in base a dati disponibili difficile avere i numeri esatti dei falsi professionisti ma la federazione degli infermieri propone una stima attendibile partendo da un'indagine dei nas del 2011 il 2012 secondo la quale su 2783 segnalazioni per abusivismo quelle relative agli infermieri sono state ben 1023 un dato che conferma come la professione infermieristica sia quella dove si registrano i più alti tassi di esercizio abusivo nello stesso biennio le segnalazioni relative ai medici sono state infatti 725 679 quelle riferite agli odontoiatri partendo da questi dati facendo una proiezione si stimano almeno 30.000 falsi professionisti con titoli di studio e curriculum artefatti che attualmente esercitano abusivamente una professione e ben 15.000 si trovano in ambito sanitario se le proporzioni dell'indagine nas sono le stesse si arriva alla stima di 5500 abusivi infermieri fatto gravissimo per la professione per la qualità dell'assistenza e soprattutto per i pazienti sottolinea la presidente dell'ipasvi barbara mangia cavalli che ribadisce quanto la necessità di una regolamentazione di un controllo di una garanzia ordinistica dell'accesso al lavoro di infermiere sia evidente quando si vede in modo chiaro che la professione infermieristica viene abusata senza un reale controllo per il polo unico delle visite fiscali al regime avranno a disposizione 50 milioni di risorse a dirlo è il presidente dell'inps tito boeri le risorse sottolinea sono sufficienti per quest'anno abbiamo 17 milioni ma al regime avremo appunto 50 milioni sufficienti per affrontare questo compito boeri chiarisce che non si faranno controlli casuali ma mirati quindi concentrando le visite in alcuni giorni per renderli maggiormente efficaci grazie alla biofotonica ed appena 20 30 gocce di sangue si può arrivare a una diagnosi precocissima dell'autismo a mettere a punto l'innovativo metodo è stato il gruppo di carla ferreri del consiglio nazionale delle ricerche di bologna si tratta di un nuovo sistema diagnostico basato sullo studio della membrana cellulare e del suo stato di equilibrio come elemento chiave per la salute strettamente collegato alla nutrizione spiega la ricercatrice il metodo mette in luce carenze spia dell'autismo a livello cellulare ma apre anche la strada a forme di lotta alla malattia che passano attraverso la nutrizione o l'integrazione nutrizionale sono diversi i casi di calciatori che hanno presentato una documentazione di tipo psichiatrica in momenti di tensione con la propria società un fenomeno che preoccupa gli psichiatri che vedono nell'inflazione di diagnosi non fondate conseguenze negative sia per chi ha davvero problemi psichici sia per la credibilità stessa della psichiatria nessuno è immune dalla depressione chiarisce bernardo carpinello presidente della società italiana di psichiatria ma temiamo che si usi la certificazione di una malattia psichiatrica senza che la diagnosi sia suffragata dalle necessarie competenze specialistiche il nostro timore è che si alimenti il miscredito sulle diagnosi e sull'affidabilità dei clinici ma anche che cresca la diffidenza verso i malati rafforzando i pregiudizi sul fatto che possano essere simulatori si nota infatti la coincidenza di tempi e di opportunità nella presentazione di certificati medici con diagnosi psichiatrica di diversi calciatori un italiano su tre torna dalle ferie più stressato di prima già prima di partire in vacanza circa due su dieci pensavano a quello che avrebbero ritrovato al rientro e ora che le vacanze sono agli sgoccioli il 32 per cento si scopre più stressato rispetto a quando è partito è quanto emerge da uno studio del portale web in a bottle che ha raccolto le opinioni di circa 1500 italiani il 42 per cento del campione dichiara di essere stressato perché non ha mai del tutto staccato vivendo così gli ultimi giorni con insoddisfazione il 25 per cento e preoccupazione il 23 per cento un trapianto di rene da donatore a cuore fermo mediante chirurgia robotica d'urgenza l'intervento è stato eseguito per la prima volta in italia nell'azienda ospedaliere universitaria careggi di firenze dall'equip della chirurgia robotica mini invasiva e dei trapianti renali che ha portato a termine le due tecniche del prelievo a cuore fermo e del trapianto con robot chirurgico la procedura permette il prelievo in assenza di battito cardiaco grazie al sistema ecmo che mantiene l'ossigenazione degli organi altrimenti si danneggerebbero irreparabilmente rendendo impossibile il trapianto questa era la nostra ultima notizia per contattarci potete scrivere a salutechioccioladncronos.com grazie per averci seguito e alla prossima puntata